L'amore, si sa, non è bello se non è litigarello. Avranno preso troppo alla lettera questo antico detto popolare gli sposini Oliver Kragl, calciatore del Foggia, e sua moglie, la sovretta Alessia Macari. Ci spieghiamo meglio. Dopo le sontuose nozze medie in Capitanata, i due hanno trascorso una notte turbolenta, ma non sul piano passionale. Anzi, all'alba è giunta ai centralini della Polizia di Stato una richiesta di intervento presso la sala ricevimenti dove Cioci Kragl stavano trascorrendo la notte per una lite accesa. La richiesta di soccorso pare sia stata fatta dalla stessa showgirl. Avrebbe raccontato alla Polizia che sono volati pesanti insulti. Alessia Macari aveva già provveduto a chiamare un taxi con l'intenzione di abbandonare il suo novello sposo, carica di alcuni regali di nozze. La bella Alessia però stava per dimenticare il suo preziosissimo anello e la sua fede nuziale, e solo quando è ritornata nella stanza i toni si sono pagati e i due hanno fatto pace. Pare che al momento dell'arrivo della Polizia la stanza dei neoconiugi fosse a soquadro. Tornando ai detti popolari, è vero che l'amore non è bello se non è litigarello, ma è anche vero che se il buongiorno si vede dal mattino... ...